Ecco, siamo nuovamente nella sala priorare dell'Arci Confraternita di Sant'Antonio. Ecco, la tradizione vuole che questa Arci Confraternita sia nata immediatamente dopo la morte del Sant'Antonio, però in realtà abbiamo un atto costitutivo che risale, che ne proclama l'esistenza nel 1298. I primi articoli dell'atto costitutivo di questa associazione sottolineano quali sono i principali motivi di questa Arci Confraternita, i principali scopi, e sarebbero prima la formazione cristiana naturalmente dei propri membri, poi la diffusione della devozione antoniana, della devozione di Sant'Antonio e infine atti concreti di carità nei confronti dei poveri della città. Questa sala è diventata famosa in tutto il mondo, però soprattutto per tutti questi dipinti che la circondano, che ne costituiscono le pareti, sono per la maggior parte degli affreschi e sono tutti affreschi di autori veneti del Rinascimento. In particolare abbiamo ben tre affreschi di Tiziano. Uno di questi è quello in cui sono io davanti, è del Tessari, è del 1524 e ci racconta la storia drammatica di Tommasino. Ecco, Tommasino era un ragazzino piccolo, un bambino di 20 mesi e viveva con i suoi genitori proprio nei pressi della Basilica del Santo. Un giorno la mamma lo lasciò da solo mentre giocava e nel fuoco c'era un grandissimo calderone proprio pieno d'acqua. Il bambino, come vedete, prende uno sgabello e comincia a guardare nel pentolone, perde l'equilibrio e cade dentro l'acqua bollente. Subito dopo arriva la mamma che, potete immaginare lo shock, piangendo e urlando, lo tira fuori ma il bambino non dà alcun segno di vita. Come vedete tutta la drammaticità dell'evento viene ritratta proprio molto molto bene da questa parte dell'affresco del Tessari. Ma vediamo la seconda parte del dipinto. Al sentire le urla della donna, ben presto molta gente arriva nella casa. Tra queste persone ci sono anche due frati della Basilica. Nel vedere i frati la donna pensa subito naturalmente a Sant'Antonio, il santo dei miracoli, e comincia a supplicarlo affinché l'aiuti, promettendo tra l'altro che se il bambino fosse ritornato in vita avrebbe donato ai poveri tanto pane quanto pesava il bambino. E infine vediamo proprio la gioia di tutta la famiglia, la gioia della mamma, la gioia del papà e anche dei frati. Ci troviamo sempre nella scoletta davanti a un bellissimo affresco dipinto proprio dal Tizzano nel 1511 e ci presenta il priore dell'arci confraternita che sta distribuendo il pane ai poveri. Si chiamava Nicola d'Astra. Il miracolo di Tommasino che ritorna in vita grazie all'intercessione di Sant'Antonio fece nascere la devozione del pane dei poveri, detta anche pane di Sant'Antonio, cioè quella di donare del pane alle persone disagiate o per una grazia ricevuta tramite l'intercessione del santo, oppure quando si chiede il suo aiuto, il suo intervento nella preghiera. Oggi, dobbiamo ammetterlo, il pane non è più un alimento così essenziale come era nel Medioevo, come era nel passato. Così oggigiorno i fratti della Basilica del Santo incoraggiano i fedeli a continuare la pia devozione del pane dei poveri, del pane di Sant'Antonio, prendendosi cura delle necessità dei poveri. A questo scopo abbiamo costituito la Caritas Antoniana che con i suoi tanti progetti di solidarietà aiuta i più poveri dei poveri in qualsiasi situazione del mondo essi si trovano, ecco, dando loro accesso ai servizi primari, per esempio l'acqua, oppure migliorando le loro condizioni di vita. Così la grande tradizione, possiamo dire, del pane di Sant'Antonio può continuare a vivere anche oggi nella nostra difficile società. Come San Francesco, anche Sant'Antonio aveva fatto la scelta preferenziale dei poveri e lui e i suoi fratti si davano da fare, si prendevano veramente cura dei poveri e addirittura, possiamo dire, chiedevano l'elemosina in cibo e in vestiario proprio per i più poveri dei poveri. In uno dei suoi sermoni Sant'Antonio scrive Per conseguire la guarigione nulla è più utile della generosità e dell'elemosine. In vano infatti alza la mano verso Dio chi implora perdono per i suoi peccati se poi non le apre ai poveri secondo le sue possibilità. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno che in Sant'Antonio hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e aiutiamo nel tuo nome coloro che hanno bisogno. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.